Benvenuto, inizieremo da subito a creare e vivere questo percorso che ti accompagnerà in un rilassamento profondo, in un rilassamento rigenerante. Prendi una posizione comoda, appoggia i tuoi piedi al suolo e quando vuoi chiudi gli occhi e inizia a fare un respiro profondo, un respiro che parte dall'addome e poi lascia gentilmente uscire l'aria dalla tua bocca o dalle tue narici e fai un altro respiro profondo e mentre fai questo respiro, inizia a portare attenzione ai tuoi piedi, proprio così, a lasciare andare stress e distrazione e se osservi i pensieri che hai maturato durante questa giornata, li puoi lasciare andare, via, gentilmente, ringraziali e fai un altro respiro profondo, proprio così, riempi di aria i tuoi polmoni e lascia andare gentilmente dal tuo naso o dalla tua bocca l'aria e mentre continui a respirare, porta la tua attenzione alle tue gambe, alle ginocchia e lascia andare tutte le tensioni muscolari che hai accumulato durante la giornata, tensione che ti portano via l'energia è un momento importante e lascia andare fai un altro respiro profondo e mentre ascolti la mia voce lascia andare ogni dubbio, ogni distrazione, qui sei al sicuro e ogni cosa che accadrà attraverso i tuoi pensieri, le tue immagini sono fonte della tua creazione io sono solo una guida e voglio chiederti il permesso di far parte di questo percorso di far parte di questo viaggio di questa fonte infinita di creazione e fai un altro respiro profondo, proprio così gentilmente è il tuo momento, un momento importante, un momento positivo puoi godertela sì, te lo meriti ora, porta la tua attenzione all'addome e lascia andare le tensioni muscolari che si sono accumulate durante questa giornata sì, proprio così e ora ti chiedo di portare la tua attenzione al petto e immagina che ci sia un fascio di luce che arriva da quella stella lassù osserva c'è una stella lì in alto una stella in cielo che porta a te calore porta a te una forza rigenerante è una luce importante fai un altro respiro profondo, proprio così e porta la tua attenzione adesso alle tue spalle al collo e sai benissimo che ogni volta che c'è un senso di responsabilità e ogni volta che c'è un peso sulle spalle è proprio perché hai maturato un grosso senso di responsabilità e adesso in questo momento puoi lasciare andare sì, lascia andare tutte le tensioni muscolari che hai accumulato durante la tua giornata fai un altro respiro profondo, proprio così ora immagina un fascio di luce che parte dal sole e sei proietta sul tuo collo verso la tua schiena verso le tue spalle senti fin da subito questo beneficio già da adesso proprio così porta la tua attenzione adesso al viso ai muscoli del viso alla mente alla fronte e lascia andare proprio così stress e distrazioni e anche se ci sono dei pensieri che si muovono dentro la tua mente le puoi prendere e metterli davanti a te sì perché davanti a te c'è una scatola è una scatola dei segreti ti ricordi quando eri bambino o bambina avevi questa scatola dove dove non vedevi l'ora di nascondere tutti i tuoi oggetti più preziosi i tuoi giochi e lì sapevi che solo tu potevi osservarli oppure c'era qualche volta che c'era una persona importante che non vedevi l'ora di aprire questa scatola e dimostrargli il tuo segreto ma in questo momento porta dentro in questa scatola soprattutto i pensieri inutili questo è il tempo il tempo di cambiare il tempo di iniziare a lasciare andare perché il nostro scopo qui è portare rigenerazione ed essere rilassati e quindi porta i tuoi pensieri lontano mettili in questa scatola chiudila chiudila legala con un fiocco si è presente quel fiocco che usi a Natale e lì al tuo fianco a destra o sinistra ci sono dei palloncini molto grandi pieni di aria ora lega questi palloncini alla scatola fai un bel nodo apri la finestra in questo luogo dove tu sei e lascia andare via questa scatola falla volare via si allontanala da te inizi a sentirti leggera leggero molto bene e adesso inizia a portare la tua attenzione al tuo respiro mentre scendi sempre di più in profondità ti chiedo di portare dentro di te energia pace ti chiedo di portare benessere gioia felicità guarigione fede fiducia e porta dentro di te la voglia di vivere porta dentro di te la voglia di essere motivata motivato e porta dentro di te la forza di raggiungere i tuoi obiettivi e scendi ancora più giù in profondità sempre più giù porta dentro di te la visione chiara di quello che vuoi realizzare di quello che vuoi creare nella tua vita e vai ancora più giù in profondità scendi sempre di più in profondità rilassati e porta dentro di te equilibrio quella voglia di essere presente di portare la tua voce nel mondo e porta dentro di te la pace l'entusiasmo e lascia andare scendi sempre di più in profondità liberati da tutto quello che è inutile porta dentro di te felicità gioia adesso puoi iniziare realmente a rilassarti sempre di più in profondità qui sei al sicuro e mentre la mia voce ti accompagna attraverso questa musica puoi iniziare sempre di più a fare chiarezza attraverso i tuoi pensieri attraverso quello che vuoi realmente nella tua vita in questo momento puoi realizzare davvero i tuoi sogni puoi immaginare i tuoi desideri che vengono realizzati la tua vita come può esserti grata se non sai realmente quali sono i tuoi sogni i tuoi desideri e questo è un buon momento per iniziare a creare realmente ciò che vuoi perché una volta che stai iniziando questo processo sappi che in te si svilupperanno delle nuove idee delle intuizioni e magari perché no durante la notte mentre stai sognando ti possono arrivare delle nuove idee delle nuove immagini ora voglio che puoi iniziare a vedere te stesso o te stessa di vivere la tua vita che ami nei prossimi mesi nei prossimi giorni e voglio che puoi iniziare a proiettare davanti a te delle immagini delle persone che ti vogliono bene persone che ti fanno stare bene persone che ti aiutano che ti guidano che sorridono persone che hanno voglia di ascoltarti persone che hanno voglia di vivere con te l'esperienza di questa vita e portano gioia portano concretezza sì da adesso in poi puoi iniziare a sviluppare i tuoi progetti e mettere dei semi giorno dopo giorno per far sì che puoi osservare intorno a te come puoi iniziare a cambiare questo mondo e puoi iniziare a cambiare anche il modo di approcciarti alla vita puoi iniziare a cambiare l'atteggiamento verso quello che puoi realizzare perché io lo so che tu lo sai che tutto quello che pensi lo puoi realizzare lo puoi realizzare ma quello che è importante adesso è che porti dentro di te pace equilibrio forza interiore e mentre ascolti questa musica e la mia voce ti accompagna sempre di più in profondità e ti chiedo di contare fino a 100 ma partiremo da 50 51 52 53 54 55 56 57 56 58 58 59 60 60 60 61 62 63 64 64 64 65 65 65 E mentre fai questo esercizio, stai imparando a realizzare un processo di conteggio, che ogni volta che conterai in questo percorso, sarai sempre più motivato a scendere sempre di più in profondità. Lo scopo qua è di stare bene, perché lo sai, se tu stai bene, anche le persone intorno a te staranno bene, se tu hai energia, attirerai a te situazioni che ti porteranno energia. E sai benissimo che se sei in armonia, se sei in equilibrio, arriveranno nella tua vita intuizioni, idee, arriveranno pensieri creativi. Sì, perché tutto quello che nasce attraverso un pensiero lucido, un pensiero calmo, lì hai la possibilità di generare un campo infinito di possibilità, di nuove scelte, di nuove decisioni. Sì, è molto bene. Vedi realmente che da adesso in poi, tu sei il primo strumento, la chiave importante per generare il cambiamento che hai da sempre desiderato. Fai un altro respiro profondo, proprio così, molto bene. Lascia andare stress, distrazioni, stai facendo un grandissimo lavoro. E so che presto porterai attenzione nel mondo reale, porterai chiarezza, porterai un campo infinito di scelte e saprai scegliere nel modo giusto. Ora, mentre stai facendo questo processo di visualizzazione mentale, ti chiedo di portare un'immagine di una porta davanti a te. Sì, entrerai in una stanza che solo tu puoi entrare. È un luogo protetto. È un luogo dove tu realmente potrai rigenerarti. È un luogo dove puoi rilassarti e scendere ancora di più in profondità. Sì, perché questo ambiente è un ambiente purificato, è un ambiente benedetto. È un ambiente dove tu stesso puoi ricevere delle idee. Oppure semplicemente abbandonarti e lasciare andare qualsiasi pensiero. Sì, sfottare la mente. Lasciare andare. Anche se vedrai un buio totale o una luce abbagliante. Sappi che questo è un luogo completamente puro. Entraci dentro. Sì, bene. Senti quello che senti, vedi. Quello che vedi, ascolta. Quello che senti. Proprio così lasciati andare. A volte, anche non fare nulla è un'azione. E a volte, anche fare molto. Sono delle azioni. L'azione, se è pensata, è sempre un'azione. Ora qui puoi semplicemente abbandonarti e rilassarti. Lasciati andare. Adesso, si fa sempre più chiarezza. Questo spazio sta iniziando a prendere forma. In questo luogo, puoi iniziare a vedere qualcosa che attira a te la tua attenzione. Un oggetto. Un oggetto molto particolare. Potrebbe essere un oggetto antico. È solo un oggetto. È forse qualcosa che richiama il tuo passato. O forse è qualcosa che richiama il tuo futuro. O semplicemente è il tuo presente. Solo osservalo. E se vedi che questo oggetto, molto particolare, vuole essere spostato, vuole essere pulito, lucidato, lo puoi fare. Lo puoi fare. molto bene. Osserva. Osserva. Ora, ti chiedo di uscire da questa stanza e di percorrere delle scale su e di percorrere delle scale su o giù, decidi tu. questo è il tuo momento. Ma quando arrivi alla fine delle scale, troverai una piccola imbarcazione. un'imbarcazione, sì, un'imbarcazione dove c'è un saggio che ti sta aspettando. L'acqua è tranquilla. Tutto è tranquillo intorno a te. E questo saggio ti sta aspettando a braccia aperte. ti sta facendo un segno di andare verso di lui. Fidati. È la tua guida. È la tua guida. Fidati. Vai su questa imbarcazione. Siediti e lasciati guidare. Lì, di fronte, c'è un'isoletta molto bella. Ricca di vegetazione. Ricca di fiori. C'è molta calma. C'è una pace incredibile. L'aria è fresca intorno a te. Puoi sentirla sulla tua pelle. Puoi odorare ogni singolo momento. Puoi osservare intorno a te cosa trovi. Qui sei felice. Questo istante è un istante di quiete, di tranquillità. Ora, puoi scendere da questa barca. Il saggio ti sta accompagnando in un posto ancora più sicuro. Sì. È lì. Ti appoggia le mani sulle spalle. Chiudi gli occhi. Senti un calore che pervade tutto il tuo corpo. Inizia a sentirti molto bene. Così. Sta iniziando a recuperare forza, energia, entusiasmo. Voglia di vivere. Ti lascio qualche minuto per godere di questa pace interiore, di questa pace che c'è dentro di te. Attimi di serenità, di tranquillità. E sai che puoi portarli in ogni momento della tua giornata. Lo sai. È questo percorso. Puoi fare tutte le volte che vorrai, tutte le volte che ne senti il bisogno. assorbi questa energia. Energia ristoratrice. Ti sta guarendo. Energia che ti porta a equilibrio. Sì. Lasciati andare. Molto bene. Molto bene. Bene. Ora abbraccia questo saggio. Ringrazialo. Guardalo negli occhi. Confida in lui. E sai che ci puoi tornare tutte le volte che vuoi. E anche se non vedi i suoi occhi puoi osservare il suo sorriso. Oppure se non vedi nulla di lui puoi sentire la sua presenza, la sua energia. Non è importante osservare ma l'importante è sentire e percepire. Ti chiedo di farti accompagnare indietro. Fai il percorso al contrario. Ritorno sull'imbarcazione. Attraverso il fiume. Scendi dalla barca. Saluta questo saggio. Salutalo dal tuo cuore. Ritorna su. Sali o scendi le scale come vuoi tu. Fai il percorso al contrario. Monterò fino a cinque. E al cinque. Potrai svegliarti oppure potrai continuare a riposare o dormire come vuoi tu. Sentiti veramente libero di fare realmente le tue scelte. Uno. Inizia a sentire i tuoi piedi, le tue gambe. Lentamente si muovono. Due. Il tuo bacino, il tuo addome. Tre. Il tuo petto. Molto bene. Quattro. Le tue mani, le tue braccia, il tuo collo, il tuo viso. Con un bel sorriso sulle labbra. Cinque. Puoi aprire gli occhi lentamente e osservare questo spazio che c'è intorno a te. È molto bello. Sei qui, presente. Ti lascio ancora qualche minuto con questa musica che ti accompagna. Mi chiamo Carlo Lesma e se vuoi puoi iscrivermi. Puoi fare molti altri percorsi attraverso questo canale che ho sviluppato apposta per tutte quelle persone che vogliono rientrare nel proprio potere personale, essere in equilibrio, essere centrati, fare le scelte giuste e sappi che io sono qui a tua disposizione. Ti auguro tutto il meglio. a tua disposizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.